Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo della nuova tenda Marmot Lime Light 2, una tenda come vedrete molto particolare perché ha diciamo due absidi in più, ecco mettiamola così, ma iniziamo subito col montaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iniziamo il nostro consueto giro attorno alla tenda, così ve la descrivo. Allora partiamo qua, troviamo la prima veranda, la prima porta, però rivediamo dopo perché facciamo un bel ragionamento. Parte di qua, sinistra a destra, dipende un po' come la volete vedere. Troviamo picchetto con il nostro clip da andare a chiudere per poter serrare il telo superiore col telo interno. Sulla parte superiore troviamo qua dei gancetti, uno da una parte, uno dall'altra e anche inferiormente per poter andare a tirare la tenda in caso ci sia vento. Tenete a mente però che in questa tenda mancano due picchetti, nel senso ci sono abbastanza per picchettare la tenda sul quattro lati più le due verande, ma vengono dati in dotazione naturalmente i vari cordini per poterla tirare, però non ci sono i picchetti, mancano, quindi saranno da aggiungere. Continuiamo, su quest'altra parte, anche qua va bene, per poterla tirare più il picchetto, e arriviamo alla parte posteriore, che è simmetrica rispetto alla parte anteriore, quindi non ve la faccio vedere perché voglio tenervela proprio dopo, perché parliamo delle verande successivamente per fare un bel ragionamento, visto che è la parte particolare di questa tenda. Da quest'altra parte troviamo le esatte cose che c'erano di là. Aggiunta qua sopra abbiamo una piccola fenestrella dove possiamo far andare uscire l'umidità, che creerebbe condensa. Una cosa che voglio farvi notare, qua in basso, andando a vedere un attimo qui la clip, come potete vedere da quest'altra parte è blu, di là era gialla. Fortunatamente Marmot ha fatto la tenda praticamente con la parte di là gialla, è la parte di qua blu, e questo si riprende anche sulla paleria per far capire da che parte va un pallo rispetto a che l'altro. Questo ne rende il montaggio decisamente più semplice, anche se comunque è un po' lungo. Continuiamo, di qua non c'è nient'altro se non nella parte, anche qua la clip da tirare, e finalmente arriviamo, torniamo davanti. Torniamo davanti e vi faccio vedere la particolarità di questa tenda. Vado ad aprire la cerniera, innanzitutto parliamo un attimo della porta da chiusa. Come potete vedere la porta non è proprio tirata, ok? Questo perché? Perché quando adesso ve la faccio vedere così ne parliamo bene, potete vedere qua all'interno che c'è una parte in più di telo interno, di camera interna. Marmot l'ha pensata dicendo, metto un picchetto, e picchetto sia la parte esterna che la parte interna. Almeno poi così è che l'ho pensata io, perché altrimenti non basterebbero i picchetti, neanche per picchettare semplicemente la tenda. Solo che se vado a tirare al massimo la parte interna, qua sotto infatti è super tirata, la porta rimane un po' a penzoloni. Sarebbe stato meglio o aggiungere un cordino più lungo qua per poter tirare bene anche la tenda, oppure fare la tenda un pochino più corta, o addirittura due picchetti e si finiva lì. Vado a far su la porta, mentre vi dico che qua naturalmente ci sono i vari strap per andare a diminuire la pressione sulla cerniera. Come potete vedere, innanzitutto questa porta è veramente molto molto grossa. Cioè, è enorme come porta di una tenda. Qui abbiamo questa parte in più. Cioè, è una parte in più del telo interno, quindi noi qui all'interno avremo maggior spazio. Cosa ne penso? Dai, lasciamo le conclusioni e le considerazioni alla fine, come consueto. Potete sicuramente vedere che qua sotto è super tirato, qua sopra no. Qua sopra è veramente molto molle. Anche qua era da ingegnerizzare meglio, nel senso fare magari, mettere qualche centimetro in meno di tessuto in modo tale che venisse tirato. Ma questo non per una questione prettamente estetica, non sto parlando di estetica. Il problema è che quando c'è vento, tutta questa parte che non è tirata, tende a muoversi e a far rumore e dà fastidio. Quando il vento è forte, quasi non ci fa dormire. E questo, secondo me, è il problema numero uno, non tanto la parte estetica, ecco. Detto ciò, però, andiamo a infilarci dentro la tenda, che ve la faccio vedere dall'interno. Quindi entriamo all'interno della tenda, vado ad aprirla. Quindi, naturalmente, troviamo due cursori. Anche questa porta è veramente grossa. Infatti, a farla su non è così semplice, essendo molto, molto grossa. Adesso ci proviamo, vediamo se ci riesco. Ok. E qua dentro c'è, al solito, l'accetto. Bene. Entro all'interno della tenda. Qui cosa troviamo? Allora, innanzitutto, la tenda è davvero grossa. È davvero grossa. Non sembra una tenda da trekking. Per intenderci, beh, posso, come al solito, sdraiarmi. Io sono sempre alto un metro e novanta. E qui ho, non lo so quanto ho, è letteralmente tantissimo. Cioè, ho, boh, 35, 40 centimetri, forse. Cioè, per intenderci, noi abbiamo i materassini che sono alti due metri. E ci sta ulteriore spazio. Nel senso che, di solito, manca più di una spanna alla fine. Quindi questa tenda va benissimo per persone. Potrebbero essere alti anche due metri e trenta. E andrà benissimo. E naturalmente, oltre a trovare spazio, o a parte lunga, è sia larga, come dire, in testa, quindi dove di solito vanno i piedi, per intenderci. È comunque un po' larga. Ma abbiamo tutta la parte di abside, che vi faccio vedere di qua. Tutta questa parte qua è sfruttabile. Cioè, noi volendo, molte volte nelle tende, magari, ci si sta a malapena come persona e gli zaini si è costretti a lasciarli fuori. Oppure a metterli in fondo ai piedi, magari dormendo un po' rannicchiati. In questo caso, noi qua possiamo benissimo andare a riporre uno zaino, anche di grosse dimensioni, un 50 litri, ci sta senza nessun problema. E ci sta sia a destra che a sinistra. È una tenda davvero grossa. Cioè, se dovete metterci... Se pensate di prendere una tenda e fa stare tutto all'interno, è veramente grossa. Poi, da questa parte, ma solo da questa parte, troviamo anche questo piccolo... mensola, chiamiamo piccola mensola, in materiale plastico, dove potrà andare a infilare il telefono, qualche oggetto. Ma non solo, perché troviamo anche le classiche taschine, dove potrà andare a riporre gli occhiali, il telefono e via dicendo. Ne troviamo due. Cosa, inoltre, troviamo? Qua sopra troviamo questi gancetti, dove possiamo andare a stendere qualcosa, a mettere sopra degli oggetti, un po', come vogliamo. E poi un'altra piccola taschina, nella parte superiore, qua, io qua ci andavo a infilare gli occhiali, che ci stavano benissimo. Oppure qualche altro oggetto, in base a cosa vogliamo metterci. Un aspetto che voglio farvi vedere di questa tenda, mi sposto un secondo, è la parte di tessuto. Come potete vedere, la parte di tessuto è fino a mezza altezza della porta. In altri punti sale anche ulteriormente. Questo ci dà modo di essere molto, molto isolati dal vento. Non essendoci zanzariera fino alla fine, questa tenda isola veramente bene dal vento. È un pro, ma è anche un contro. Nel senso che è un pro, perché noi abbiamo passato delle notti in cui fuori il vento era fortissimo, davvero, faceva un baccano che non vi dico, però all'interno non entrava neanche un filo di vento. Quindi dormi veramente tranquillo. L'aspetto contrario è che, tranne pochissima aria, l'aria che noi produciamo resta all'interno. Quindi non vi dico che crea tanta condensa, perché comunque la condensa va, come al solito, deve portarsi sul telo esterno, e sul telo interno non ne arriva, però sul telo esterno ce n'è abbastanza. Fortunatamente, essendo doppio telo, appunto, questa poi scivola giù e non arriva all'interno, non bagna sacchia pelo, non bagna materassino o gli oggetti che lasciamo all'interno. Volevo farvi vedere giusto un attimo le cuciture. Come volete vedere, sono doppie, quindi abbiamo una doppia nastratura e sono termosaldate. Questo tipo di cucitura è veramente ottimo e fidatevi che non si andrà mai praticamente a spaccare. Per quanto riguarda invece l'impermeabilizzazione, troviamo sia per il catino nella parte bassa, sia per il telo esterno un'impermeabilizzazione di 2000 mm di colonne d'acqua. Non è così tanto. Sinceramente non è così tanto. Di solito nelle tende, secondo me, almeno 3-4000 ce n'è bisogno. 2000 si rischia, non dico di bagnarsi, ma che sicuramente entri un po' di umidità, eccetera. Quindi è un po' basso come valore. Arriviamo dunque alle conclusioni per questa Marmot Limelight 2. Ha senso una tenda con questa struttura, con una parte di upside in meno, ma spazio all'interno? Allora, la risposta non è, come al solito non è, né sì né no. Dipende. Ha senso, a mio parere, se vogliamo utilizzare questa tenda come, dire, campo base. Quindi facciamo trekking, magari arriviamo in un punto, ci piazziamo lì e poi siamo lì qualche giorno e facciamo qualche ascensione, qualche giro. Allora può aver senso perché magari ci portiamo indietro tanto materiale, magari se vogliamo anche andare a rampicare, ci portiamo indietro tutto il free answer, roba costosa che magari vogliamo tenere all'interno. Quindi in quel caso ha senso. Come tenda prettamente da trekking, quindi la smonto la mattina, la rimonto la notte in un altro posto perché di giorno cammino, mi porto il peso tutto il giorno, a mio parere no. No, perché questo è solo spazio in più che, sì, magari useresti, ma è peso in più perché teniamo conto che questa tenda pesa 2,7 kg e per una tenda a due persone è comunque tanto perché se la smezzi diventano 1,3 kg, 1,4 kg a testa. Come invece idea? Può aver senso? Allora, secondo me sì, può aver senso come idea perché comunque sicuramente lo spazio che è richiuso all'interno lo si sfrutta di più rispetto con lo spazio all'esterno perché si è anche più tranquilli lasciare la roba all'interno dove dormiamo piuttosto che l'esterno. Quindi sì, sicuramente l'idea può essere buona. Dipende poi naturalmente che utilizzare e facciamo della tenda. Prima di dire se ve la consiglio o no, mi sono dimenticato di dirvi che in confezione troviamo anche il kit per riparare la paleria nel caso si dovesse rompere mentre siamo in giro e anche il telo da mettere sotto per andare a aumentarne almeno nella parte inferiore le colonne d'acqua e per fortuna che vi è andato in dotazione perché con questa struttura trovare un telo con tutta questa parte che esce sarebbe stato letteralmente impossibile. Fortunatamente Marmot ce lo dà già di serie. Perciò vi consiglio di acquistare questa tenda al di là del ragionamento che abbiamo fatto prima se ha senso o non ha senso. Sicuramente questa tenda è fatta bene. Marmot dal punto di vista delle tende ne ha costruite tante è un produttore che è ben piazzato sul mercato è un produttore che fa tende solide tende che durano nel tempo i materiali sono ottimi i materiali parliamo di un nylon 190T quindi un nylon veramente super resistente le cuciture ve le ho fatte vedere tutta la parte anche di cerniera eccetera è fatta bene è una tenda che durerà nel tempo anche perché non ha un costo indifferente è una tenda che costa 420 euro quindi per 420 euro io mi aspetto una tenda che veramente compro oggi mi dura anche dieci anni perciò ragazzi io vi ho detto tutto quello che so e tutte le mie impressioni su questa tenda sta a voi naturalmente capire se per voi può aver senso o non aver senso ma detto ciò io vi ringrazio per aver visto anche questa recensione e nella speranza di essere stato esauriente teresa o stivo noi ci vediamo alla prossima ciao ciao